In questo tutorial useremo Ergo Raffle per creare una lotteria di esempio e poi parteciperemo a un'altra già esistente. Bisogna tener conto del fatto che Ergo Raffle consente di destinare una percentuale del monte premi totale della lotteria a terze enti. Cosa significa questo? Che una volta definita la nostra lotteria, ci sarà un vincitore, scelto a caso tra i partecipanti, e a parte la terza parte o ente, che prenderà la percentuale scelta senza dover partecipare. Siamo entrati nel sito di Ergo Raffle. Una volta in Ergo Raffle configureremo il nostro portafoglio da set wallet. La configurazione è semplice come incollare il nostro indirizzo e fare clic su Imposta. Successivamente andremo all'opzione Crea lotteria dove vedremo un modulo per configurare la nostra lotteria. Introduciamo nome e descrizione. Si tenga presente che il campo Beneficenza è quello destinato al terzo che si aggiudicherà una percentuale della lotteria senza dover fare altro. Il campo Obiettivo Donazione si riferisce all'obiettivo della lotteria, ovvero l'importo minimo che deve essere raggiunto affinché la lotteria abbia effetto. Indichiamo il prezzo che vogliamo che la partecipazione o il biglietto abbia. Nel campo Deadline definiremo la durata della nostra lotteria, questo importo si riferisce ai blocchi estratti, possiamo vedere nel campo a destra l'equivalenza in tempo reale. Scegliamo 10 blocchi che sono circa 20 minuti. Nella scelta delle percentuali dobbiamo tenere conto che il 5% sarà per le spese di servizio, il restante 95% abbiamo da distribuire tra il vincitore della lotteria e il conto di beneficenza che si riferisce alla terza parte o ente. Per completare la creazione della lotteria dovremo leggere e accettare i termini di utilizzo di ErgoRafle. Sullo schermo vedremo un messaggio con l'importo esatto e l'indirizzo a cui dobbiamo inviare la quota per la pubblicazione. Ricorda che per copiare l'indirizzo e l'importo puoi cliccarci sopra. Useremo Yoroi per effettuare il pagamento. In pochi minuti l'operazione sarà effettiva e potremo vedere la lotteria correttamente creata nell'elenco delle lotterie attive. Possiamo vedere che la lotteria è stata creata con successo. Scorriamo le lotterie attive per sceglierne una a cui parteciperemo ora. Abbiamo selezionato la lotteria di Natale in Ergo in cui il vincitore della lotteria ottiene il massimo possibile. Poiché questa lotteria è configurata, solo l'1% dei 200 ergos della porta è destinato a Cerity, il resto è per il vincitore della lotteria. Selezioniamo il numero di biglietti che andremo ad acquistare, nel nostro caso ne compriamo 1 per 0,5 ergos più tasse. Accettiamo i termini di utilizzo e fai clic su Dona. Anche in questo caso ci mostrerà un messaggio sullo schermo indicante l'importo esatto e l'indirizzo a cui dobbiamo effettuare il pagamento. Una volta completata la transazione, torniamo a Ergo Raffle per vedere la nostra partecipazione. Le lotterie che non raggiungono l'obiettivo non si terranno e i partecipanti saranno rimborsati.